buongiorno ragazzi e bentornati sul nostro canale oggi vi portiamo nella bellissima cittadina di grado dopo la sosta notturna è una breve visita al centro di soave bellissimo il castello da visitare abbiamo fatto un video un paio di anni fa in proposito prendiamo l'autostrada e ci dirigiamo verso la nostra meta eccoci ragazzi siamo arrivati in questo momento a grado ci accendiamo ad entrare al camping al bosco entriamo e vediamo com'è questo campeggio ciao no e ne abbiamo individuato la nostra piazzola vista mare con la ciccabili di fronte adesso allestiamo nel nostro campeggio e poi facciamo un giretto al centro di grado il nostro corso gratuito www.mesmerism.it bene ragazzi adesso intanto che aspettiamo che la nostra padella qui davanti si scalda facciamo un bel aperitivo e poi grigliatina vista mare bene signori grigliatina siamo attrezzati di tutto punto questo telo l'abbiamo messo per non sporcare tutto di unto un altro buono adesso coppa salamelle spiedino facciamo l'aperitivo dopo questo bel pranzetto una bella penichella con la vista mare bene ragazzi dopo questa bellissima mangiata adesso pancia piena chiama riposo quindi ci mettiamo prima bevamo caffè poi ci mettiamo lì davanti cosa dà vista mare e ci godiamo un momento di relax bene ragazzi adesso prendiamo le biciclette e lasciamo il campeggio ti andiamo a fare un diretto a grado in centro a grado vediamo un po le biette la sera come si movimentano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buongiorno bene ragazzi dopo una buonissima colazione sul mare che buonissima mica tanto perché cappuccio era veramente orrendo però la vista perlomeno ne ripagava il prezzo della colazione adesso abbiamo preso le biciclette lasciamo il campeggio e tiriamo sulla ciclabile qui appena fuori dal campeggio vediamo di fare un bel giro intorno ad esculare la zona intorno a grado traversiamo il fiume isonzo siamo nella riserva naturale del caneo patria del bird watching la buonissima paludio dove poter ammicare tantissimi animali tantissima fauna autotona eccoci ragazzi ragazzi siamo arrivati qui a marina di giulia a monfalcone adesso ci torniamo a mangiare qualcosa e poi continuiamo il nostro percorso d'anello se riusciamo passiamo anche da aquileia e rientriamo a grado quindi ci vediamo dopo ciao bene ragazzi abbiamo lasciato un attimino quello che è il percorso la traccia che abbiamo indicato ci siamo spostati diciamo al centro di queste bellissime coltivazioni stiamo facendo una traccia nostra seguendo un attimo i sentieri su wikilu e adesso ci spostiamo verso aquileia ragazzi siamo arrivati all'ultimo giorno delle nostre vacanze qui a grado adesso non ci resta che dopo una bella colazione sistemare tutto check out in campeggio e riprendiamo la strada del ritorno grazie a tutti bene ragazzi è giunto il momento di lasciare grado bellissimi questi tre giorni comunque ce li siamo spassati alla grande vi consigliamo il campeggio del bosco perché comunque è un campeggio con tutto l'essenziale comodo profiscabile fuori in dieci minuti si raggiunge il centro di grado quindi comunque è bello ombreggiato silenzioso tranquillo a noi è piaciuto adesso non ci resta che lasciare grado purtroppo ha ricominciato a piovere però va bene così e adesso riprendiamo l'autostrada in direzione di bergamo ma faremo una piccola tappa a illasi in una piccola area sosta passaggio per il pranzo bene ragazzi volevamo mostrarvi l'area sosta a illasi ma ce l'avamo già stati quindi se volete andate a vedere un video di soave e illasi che è una bellissima zona questa vicino all'autostrada spero mi sentiate non vi facciamo vedere l'area sosta perché qui sta diluviando e quindi purtroppo non riesco a mostrarvi questa area sosta quindi noi ci salutiamo qua vi ringraziamo di aver visto questo video e ci vediamo alla prossima ciao ciao ma io avevo dei calcini bianchi qua dentro lasciate un commento e iscrivetevi al canale